Eccolo lì, Claudio Greco! Claudio Greco, come stai? Bene, tu? Da quanto tempo sei bellissimo Ma sei sempre uguale Sono sempre uguale Come Gianni Morandi, sempre lo stesso Ma Gianni Morandi potrebbe essere mio nonno però Tu sei come mi immaginavo io Ma è che incontrerò Papa Francesco? Tu saresti capace di dire Tu secondo me sei capace Se le scarpe non sono abbinate all'abito Al Papa glielo dire Ma certamente sì Ma sai che a proposito di Papa Io voglio dire una cosa Dopo riapro l'Università Italia Parliamo di Papa Francesco Io ho avuto l'onore di rifare Dopo sei secoli Il saia San Francesco di Paola E quindi questa è una cosa importantissima Tu sei come mi immaginavo il mondo Io sono molto origin Io faccio casting, mi riassemble Sai quanto hai fatto scappare? Ma scappare, piangere Vabbè Che ti perdi, ninja Che denti nell'irvana Lui ha una grande genialità Devo dire La sua tesi Lui ha presentato questa Un'unità abitativa mobile Diciamo Un mix fra una Un'otto e un container Diciamo Un nuovo modo di concepire L'abitazione Senti il cuore invece E smetti di ticciare Una barretta così E una barretta di so Invece sembra un fungo porcino La chiusa Ma sai Quando ti sposi il fungo Comunque stimola molto La forma del fungo Tante altre cose Ancora fra poco Con Occhiuzio le 9 Con Claudio Greco Fra poco ancora